Mugno, mi sembra di affondarci dentro. Quando invece provò il letto piccolo, cominciò a fare le fusa. Oh, questo sì che va bene, è morbido al punto giusto, caldo al punto giusto, comodo al punto giusto. Detto questo, la ricetta si sistemò sotto le coperte e scivolò nel sonno. Un sonno profondo, profondissimo. Così profondo che quando gli orsi rincasarono, l'amicetta non sentì i loro pesanti passi al piano di sotto. E nemmeno la grossa voce di babbo orso che diceva, ehi qualcuno ha assaggiato la mia minestra. E anche la mia, continuò la mamma orsa con la sua voce così così. Chi è stato? Poi il loro cucciolo guardò nella sua scodelina e una voce piccola piccola, ma molto irritata, esclamò. La mia minestra invece se la sono mangiata tutta. Babbo orsorgì, perché passi che qualcuno fosse entrato senza permesso, passi che avesse assaggiato la loro minestra, ma mangiarsi tutta la pappa del suo orsetto. Oh, questo poi no, l'amicetta però dormiva tanto bene che non sentì nulla. E se anche sentì qualcosa, si girò dall'altra parte e continuò il suo pisolino. Chi ha assaggiato e poi mangiato? Babbo orso entrò nel salotto. Notò subito che il cuscino della sua grande portrona non era al suo posto. Qualcuno si è seduto sulla mia portrona, borbottò. Anche sulla mia, esclamò mamma orsa, rimettendo in ordine i cuscini della portrona grande così così. La mia sedia a dondoli invece è tutta rotta, si lamentò il loro cucciolo. Gli orsi si guardarono intorno sempre più arrabbiati. Chi era entrato senza chiedere il permesso? Chi è stato? Chi si era accomodato? Ai tre orsi non restava che ispezionare la camera da letto. Chiunque fosse entrato, se non era già uscito, doveva trovarsi lì. Per questo Babbo orso salì le scale pian piano per non far rumore, seguì loro in punta di pieti da mamma orsa e dal loro cucciolo. Una volta entrato nella stanza, Babbo orso vide che le coperte erano stropicciate. Qualcuno si è disteso sul mio letto, ringhio, annusando l'abia, e controliò dietro il comodino, sotto il letto e anche sotto il palume della lampada in cerca dell'intruso. Ma non trovò nessuno. Mamma orsa invece, quando arrivò davanti al suo letto, si obbalzò per la sorpresa. Qualcuno si è disteso anche sul mio morbido letto, esclamò, e buttò le lenzuole coperte all'abia in cerca dell'intruso. Ma non trovò proprio nessuno, nemmeno dentro lo scalino o sotto il tampeto. Mamma orso e Babbo orso restarono ancora un po' ad annusare l'abia, mentre il loro cucciolo si avvicinava preoccupato al suo lettino. Il mio letto non l'hanno solo provato, strillò l'orsetto quando vide l'amicetta sotto le coperte. Senti, c'è ancora qualcuno addormentato. E' russa! In effetti l'amicetta stava facendo le fusa nel sonno. Tanto era felice di stare al calduccio, ma sembrava proprio che russasse. Una gatta nel tuo letto sbottò Babbo orso. Adesso la vedrà, nel tuo letto dorme una gatta, aggiunse mamma orsa. Oh, non la passerà a liscia! Tutti e tre gli orsi strillarono in coro accanto al lettino. Che cosa fai in casa nostra? Perché hai mangiato la nostra minestra? Perché ti sei seduta nelle nostre poltrone? E perché ti sei corciata nei nostri letti? L'amicetta, che aveva il sonno pesante, ma non tanto da non sentire un coro di tre orsi, di cui due grandi e grossi, si svegliò di soprassalto. Non fu uno spavento piccolo per l'amicetta, e nemmeno uno spavento così così. Fu proprio uno spavento grande, grandissimo. Infatti balzò dal letto, attraverso la stanza di corsa, scese le scale a rotta di collo, e finalmente uscì dalla poltrona, scappando lontana. E potete stare sicuri da quel giorno, non entrò più in casa ad altri senza chiedere, è permesso o proprio no? Fine seconda parte